Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023. Vediamo un po' amici dell'Ariete. Sembra che ci sia un'energia un po', come vi posso dire, trattenuta. Andiamo a vedere Imperatore e Temperanza. Non male, devo dire. Imperatore parla sempre di stabilità, di un qualche cosa che viene fatto giorno per giorno in modo costante e comunque poi avendo la Temperanza si parla di anche pazienza, costanza, pazienza, qualche cosa che l'Imperatore è colui che costruisce un impero giorno dopo giorno e la Temperanza che è una carta che parla anche di guarigione, anche la guarigione fa riferimento a qualche cosa che è in progressione, è una cosa lenta e ci vuole pazienza. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare o venere e se non sapete come unire questi oroscopi potete ascoltare il video di cui trovate il link qui sotto che è una guida e vi spiega proprio come farlo. Trovate anche la mia e-mail e altri link a video che potrebbero essere utili. Abbiamo un 6 di denari ragazzi in partenza. la carta del matto. Vediamo un po' che altro. 6 di denari è una carta che parla di equilibrio, è una carta che parla di generosità, apertura di cuore, è una carta che parla di qualcuno che va in aiuto o che riceve aiuto. Diciamo che è una carta più di qualcuno che dà, che condivide quello che ha. Per qualcuno sento questo 6 di denari molto collegato all'imperatore in quanto è come se ci fosse una sorta di stabilità fisica emotiva pratica che si può condividere. si parte da un punto di abbondanza per cui si può dare. Ed è quel tipo di risultato che vi ho detto qui sentivo prima con l'imperatore. Ok. Allora, poi abbiamo la carta del matto, il giudizio, la regina di spade, 7 di bastoni, 2 di spade al contrario e 7 di spade al contrario. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, il 6 di denari, come vi dicevo, è un qualche cosa che si condivide, è qualcosa di equilibrato. Può essere tempo contro denaro, può essere favore contro favore, può essere scambi commerciali. E qui con la carta del matto sento che c'è un nuovo impulso, o è una nuova idea, o è un nuovo inizio, o è anche una nuova avventura magari lavorativa, o potrebbe parlare di un viaggio. Vi dico, partendo da una situazione stabile e per qualcuno viene visto anche come una sorta di ampliamento. Non è proprio solo un nuovo inizio. Abbiamo anche la carta del giudizio. Allora, può rappresentare, diciamo, in questo caso lo sento come se fosse un desiderio di qualcuno che ritorni dal passato, di qualche situazione, di qualche possibilità. È un po' come se ci fosse una sorta di pensiero legato un pochettino al passato, in questa prima settimana di luglio. Guardate, continuano a ripetermi la parola rivalza. È come se voleste far sapere a qualcuno, vorreste sentire qualcuno per fargli o farle vedere quanto abbondanti siete diventati, quanto imperatore, che cosa avete costruito. Potrebbe essere questa regina di spade, o semplicemente, se avete un pochettino se per esempio non fosse una persona, potrebbe essere, diciamo, la difficoltà, se vogliamo, a lasciarsi indietro il passato. Guarire, da un punto di vista, diciamo, un po' più spirituale, fondamentalmente vuol dire staccarsi dal passato, riuscire a vederlo in un altro modo, da un punto di vista più ampio. Tenete presente che questo è il giudizio, quindi è come se ci fosse un po' la zampina dell'universo in quello che vi è successo. Si tratta di farvi vedere, di farvi risvegliare, è la carta del risveglio. E comunque è come se doveste appunto passare attraverso questa fase di guarigione, attraverso prima il distacco, poi l'elaborazione e poi il perdono. Va bene. Queste tre carte le vediamo poi direttamente dopo con i mini tarocchi, ripartiamo dal 6 di denari. Abbiamo un fante di denari e la carta della stella. Guardate, per qualcuno si può trattare di una questione tra padre e figlio o tra madre e figlio, anche se sento più che sia da qualche cosa. Beh no, c'è anche la regina. Sì, potrebbe fare riferimento a una questione di genitori, comunque legata ai genitori, magari qualcuno vorrebbe staccarsi dalla dall'azienda di famiglia, vorrebbe creare la propria realtà. Andiamo a vedere questo matto. 5 di pentacoli e re di coppe. È come se ci fosse una sorta di preparazione emotiva che è già stata fatta, però avendo questo 5 di pentacoli è come se ci fosse una sorta di carenza magari economica. Può essere che finché rimanete nella vostra situazione, siate nell'abbondanza, ma nel momento in cui iniziate qualche cosa di vostro, probabilmente non mi sentite tanto stabili a livello monetario, a livello concreto, come quanto lo siete a livello emotivo, magari perché siete convinti del progetto di questa persona. Vi dico, c'è la carta della stella, quindi per qualcuno si tratta come di un nuovo obiettivo, appunto, anche poi avendo il matto, è come se fosse un nuovo desiderio, un nuovo percorso di studio, un nuovo percorso, una nuova strada, un nuovo progetto. Andiamo a vedere il giudizio. Quattro di spade, di nuovo una carta di guarigione e asso di bastoni. Come se aveste bisogno di rielaborare il vostro modo di agire. Tenete presente che l'imperatore è colui che si fa da solo, è colui che rompe le regole degli altri per costruire le proprie. E qui è un po' il risvegliarsi da quello che è la sofferenza, da quello che è la stanchezza, da quello che sono le regole per iniziare ad agire come meglio si ritiene. Ed è per quello io credo che ci sia qui anche questa regina di spade, perché fa riferimento più che tutto a quello che dovete lasciare indietro, a quello da cui vi dovete staccare, come vi dicevo prima qui con la temperanza. Devo vedere la regina di spade. Abbiamo un'altra volta l'imperatore, il 3 di spade, un 10 di pentacoli e la morte. Si può anche essere che abbiate paura di far soffrire, tipo se fosse un'azienda familiare o qualche questione legato ad un familiare, magari anche un capo con il quale semplicemente vi trovate bene, non è che ci sia qualcosa che non va nel lavoro o nell'ambiente di lavoro, ma semplicemente volete seguire la vostra strada. Ecco, in questo caso, nel caso in cui ci sia un rapporto pulito con la persona, io credo che molte persone si facciano lo scrupolo di non far soffrire l'altro dicendo guarda, il nostro rapporto finisce qui, perché io ho bisogno di andare per la mia strada. Un po' come se ci fosse il bisogno di lasciare indietro qualche cosa, perché c'è morte, c'è 3 di spade, però è anche vero che c'è un imperatore, è un 10 di pentacoli, come se in un certo senso si dovessero lasciare indietro dei contratti, delle unioni, dei gruppi. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Matto nuovamente. E il diavolo al contrario. Allora, il diavolo al contrario normalmente parla di condizionamenti molto forti, ragazzi, di costrizioni. Datemi un'altra carta, perché avete anche un 2 di spade al rovescio, non vorrei che presi da questo entusiasmo sottovalutaste qualche cosa in questa situazione o in questa relazione. appeso al contrario. Amanti al contrario, 8 di pentacoli e 5 di bastoni. Sì, è un po' come se le cose qui si sbloccassero, ma non in modo del tutto fluido. Risento un po' l'energia dell'inizio della lettura, cioè nel senso che magari l'idea in sé è matura, ci avete già lavorato tanto, ma a livello pratico c'è qualcosa ancora che manca. Può essere del denaro, degli investimenti, delle attrezzature, dei macchinari o cose di questo genere. O semplicemente la paura di dare una delusione appunto a una figura di riferimento. Però, ragazzi, in realtà attraverso questa scelta, questo salto di fede? Fatto, guardate, datemi un'altra carta per il diavolo. Giustizia e contrario e mondo al contrario. Allora, di nuovo, la giustizia e il contrario mi richiamo un po' il 10 di pentacoli, come se avesse bisogno di rompere con qualche schema. Morte, regina di spade, c'è da rompere qualche contratto, da rompere qualche legame. Per qualcuno potrebbe essere proprio la famiglia, però c'è il bisogno di andare verso il nuovo. Tenete presente che con la carta dell'appeso qualcosa si sblocca, perché è girata al contrario. Però occhio perché sì, è vero che si sblocca, ma vi sento un po' in una difficoltà nel fare una scelta. Vuoi perché non avete la mente molto chiara, vuoi perché non avete tempo per mettervi di riflettere, però è come se doveste cercare di vederci chiaro, perché alla fine della lettura, ragazzi, c'è un 7 di spade che adesso andiamo a vedere. Però qui c'è qualche verità che potrebbe venire a galla, qualche presa di consapevolezza che vi fa dire, ah, caspita, ho sottovalutato questo aspetto. Abbiamo un 7 di pentacoli, un 9 di coppe e un 8 di bastoni. È come se non arrivassero subito i risultati che voi state aspettando, facendo questo salto di fede. Vi ricordo che il matto è legato ai bambini, all'impulsività, alla gioia, all'istintualità proprio, no? E sono quelle anime che vogliono l'oggetto del desiderio subito. Questo tipo di, come vi posso dire, modo di essere, fate attenzione perché, come vi posso dire, potrebbe potrebbe portarvi a fare cose proprio solo di impulso, senza pensarvele bene. Anche perché ad un certo punto le cose si sbloccheranno, quindi sarete un po', diciamo, presi dagli eventi circostanti e non avrete tanto più tempo di mettervi lì a riflettere. Quindi fatelo prima, finché riuscite, cercate di vedere le cose in modo chiaro prima. Comunque sta di fatto che a fine mese, o come la sensazione che sarete in attesa, sono due carte di attesa, di pazienza, sia la temperanza che il sette di pentacoli, perché è come se vi rendeste conto che quello che state sperando arrivare non arriva. Non dico che non arriva in assoluto, diciamo, nei primi 15 giorni di luglio ci mette un po', insomma, il movimento energetico è lento, ok? Va bene, andiamo a vedere, amici della rieta, ancora un oracolo per vedere come terminiamo la lettura. E che cos'altro hanno da dirvi? Wow, essere divino. E un po' io la sento collegata alla carta del sole, ma anche qui alla carta della temperanza. Adesso ve la cerco in questo mazzo, perché in questo non si vede molto bene, però in alcuni mazzi la carta della temperanza è raffigurata con due brocche e hanno colori diversi queste brocche, le volte sono rosse e blu, le volte sono gialle e blu, lì dipende poi da chi scrive il mazzo, però ognuna di queste due brocche rappresenta una la mente e l'altra il cuore. Adesso vediamo se riesco a trovarla, così ve lo faccio vedere. No, neanche in questo mazzo. Va bene, non importa, spero che ce l'abbiate. La cosa che mi fa, che volevo farvi notare, è che anche questa maschera, questo viso, questa figura, ha due occhi di colore diverso, uno giallo e uno blu, esattamente come la carta della temperanza, delle brocche della temperanza. Qui si tratta ragazzi veramente di mettere in equilibrio quello che è il vostro, anche qui abbiamo la giustizia, tra l'altro che è una carta di equilibrio, la vostra mente con il vostro cuore, cercare di attingere quelle che sono le risposte o, come vi posso dire, gli incoraggiamenti dal vostro sé superiore, perché dentro ognuno di noi c'è una parte divina. Amici della riete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura comunque vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, se vi è piaciuta potete mettere like, iscrivervi, condividere, se volete sostenere il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Per quello che riguarda gli abbonamenti ci sono due fasce di prezzo, quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale, mentre quella più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!